E adesso ci occupiamo di Veronica Valla la tentatrice di Temptation Island che ha fatto non poco arrabbiare Tara Gabrieletto anche perché lei tenta proprio il suo Christian Gallella. Ma diamo qualche informazione in più su di lei. A 22 anni viene dalla provincia di Alba Adriatica dove si è diplomata in ragioneria e dove ha studiato pianoforte presso il conservatorio. Veronica Valla ha lavorato come modella, ha fatto fra l'altro Miss America Latina, ma è anche un atleta infatti ha giocato nella squadra locale del posto. Ha partecipato a Miss Grand Prix e ha partecipato anche al concorso Veline due anni fa quando era fidanzata con un calciatore il cui nome è rimasto però sconosciuto. Veronica ha una sorella che si chiama Federica e sogna da grande di debuttare nel mondo della musica. Segni particolari veramente bellissima come queste foto di Veronica Valla ci mostrano chiaramente.